È un evento che raggruppa un sacco di ragazzi e non è solo il solito calcetto ma è anche un momento di aggregazione sociale. Impegna tante persone però c'è la voglia e il gusto di ottenere dei buoni risultati. A chi ora inizierà? Inizia nel pomeriggio del sabato e terminerà la sera della domenica con le finali. È effettivamente chiamata 24 ore di calcetto ma dura una trentina di ore, quindi non stop per tutta la durata del torneo. E volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano, tutti i ragazzi di Piagge, i vari sponsor e soprattutto anche il comune di Piagge. Anche l'Avis di Piagge collabora con questa iniziativa? Sì, certamente. L'Avis di Piagge partecipa a questa manifestazione perché dove ci sono tanti giovani che fanno sport l'Avis bisogna che è presente in qualsiasi caso. Quindi, come diceva il mio amico, è un momento di aggregazione però per i giovani è una cosa molto bella. Ed è stato organizzato anche un evento collaterale? Sì, abbiamo organizzato un raduno di mountain bike che si svolge domenica mattina, ritrovo alle 8-8.30 per partire alle 9 a fare un giro per le campagne di Piagge. Quindi valorizziamo anche il territorio di Piagge.